Lo scossone in casa Nissa dopo le dimissioni del direttore sportivo Massimo Ferraro ha lasciato parecchi strascichi sulla vicenda, tanto da portare il presidente Sergio Iacona ad effettuare un'altra nota sulla pagina della compagine biancoscudata in cui dichiara che i precedenti comunicati relativi alle dimissioni del direttore sportivo Massimo Ferraro hanno alimentato sui social una polemica molto sostenuta con la pubblicazione di commenti anche eccessivi e offensivi. Desidero precisare che il rapporto sia interrotto esclusivamente per legittime divergenze su valutazioni importanti per il proseguimento della vita societaria. Tali divergenze non implicano in alcun modo una valutazione negativa sulle capacità professionali del Ferraro né tanto meno sulle qualità personali dello stesso. Desidero inoltre rivolgere un parentore invito a non pubblicare giudizi offensivi nei confronti dello stesso in quanto non consoni allo stile che questa società si è imposta. Ieri abbiamo sentito il dirigente biancoscudato Antonio Emma che ha voluto solamente parlare del futuro del club sposando le parole di Iacona ad abbassare i tori sulla vicenda e chiudere il capitolo. Per quanto riguarda la prima squadra ci stiamo allenando e preparando per la partita di domenica una difficile partita per tanti motivi contro il Gela che ha come noi bisogno assolutamente di punti ma la squadra è concentrata si sta allenando bene, mi serve ancora e lo sto preparando ai minimi dettagli.